La società Settore Giovanile Nurese ha aderito al progetto di scuola calcio con metodo Dutch Football School. L'ufficializzazione dell'accordo è stata sancita ieri nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta in Piazza Sata, ma la collaborazione è già iniziata da qualche tempo con un primo raduno che si è tenuto sul campo scuola di Piazza Veneto, cui hanno preso parte oltre 100 calciatori. Il presidente della Nurese Academy, Seraphino Cosma Musu, ha spiegato che l'obiettivo primario sarà quello di coinvolgere le ragazze, offrendo loro la possibilità non solo di divertirsi ma anche di avere un'esperienza diretta, avvicinandosi al mondo del calcio giovanile e soprattutto di essere seguiti da allenatori preparati in grado di insegnare la metodologia olandese attraverso corsi di istruzione organizzati dall'Ajax. Alla conferenza stampa è intervenuto l'intero staff della Dutch Football School, il direttore tecnico e referente Ajax in Italia Carlo De Riu, il team manager Corrado Lampis, il direttore sportivo Antonello Monni, l'osservatore Salvatore Picconi, il preparatore atletico Daniele Dessi, il preparatore dei portieri Pinuccio Loi, il medico sportivo Roberto Sollai e il responsabile tecnico Nurese Academy Dutch Football School Sandro Moro. Questi sono gli obiettivi da raggiungere nel progetto, insegnare la tecnica calcistica utilizzando la metodologia Ajax per i bambini di età compresa tra i 5 e i 13 anni, selezionare gli allievi con il metodo TIPS, tecnica, intuito, personalità e velocità che rappresenta il marchio di fabbrica dei giocatori di scuola Ajax che continua da 50 anni a sfornare talenti di livello mondiale da Cruyff a Van Basten fino a Ibrahimović. Offrire alla società Ajax la possibilità di prima scelta dei talenti inuresi. Sono previsti periodi di prova presso società professionistiche. Inoltre verranno formati gli istruttori al fine di trasmettere gli alti standard acquisiti concorsi organizzati direttamente dall'Ajax. Saranno promossi dei camp e ci sarà la partecipazione a torne internazionali. L'obiettivo è quello di affiliare alla Dutch Football School 13 scuole calcio sarde entro il 2017.